Musica Con questa istituita e installata nel comune di Agropoli siamo alla terza colonnina per la distribuzione di energia elettrica per le macchine appunto elettriche quanto è importante fornire questo servizio al nostro territorio e quali sono i vantaggi soprattutto dal punto di vista ambientale? È sicuramente estremamente importante oggi per un'azienda come la nostra che guarda il futuro fornire una soluzione per un nuovo tipo di mobilità quella della mobilità sostenibile, della mobilità elettrica e tramite l'installazione di queste colonnine cerchiamo appunto di sensibilizzare il territorio che esiste un'altra forma di mobilità e oggi è possibile muoversi tranquillamente nel Cilento in completa tranquillità perché i punti di ricarica sono sempre più disponibili sempre più aperti perché questa non è soltanto una colonnina di ricarica ma è una vera e propria soluzione tecnologica perché all'interno della colonnina c'è anche un access point che può servire agli utenti che non sono clienti di convergenze ma che magari visitano Agropoli per una gita turistica e tramite il collegamento wifi possono agganciarsi alla colonnina registrarsi e attivare la ricarica senza nessuna forma contrattuale quindi nella maniera più aperta possibile e l'idea è stata brevettata da noi perché appunto costituisce un elemento di innovazione rispetto a tutto il panorama delle soluzioni di ricarica che oggi sono presenti sul mercato e si sposa soprattutto con il nostro territorio un territorio che ha una spiccata vocazione turistica con delle perle di eccellenza notevoli e oggi possiamo dire che sono anche infrastrutturate le persone generalmente che hanno un'auto elettrica programmano in maniera dettagliata tutte le loro destinazioni proprio perché non è sempre facile trovare un punto di ricarica e questa colonnina oggi è presente in tutti i database della mobilità sostenibile quindi significa che chi programma saprà che ad Agropoli c'è un punto di ricarica e quindi può venire a pernottare, può venire in vacanza qui in maniera estremamente più tranquilla rispetto a quello che faceva nel passato e sta proseguendo questo nostro lavoro di infrastrutturazione del territorio abbiamo già la disponibilità di installare a Castellabate che sarà realizzata nei prossimi mesi ma anche Vallo della Lucania, a Palinuro e a Dacciaroli quindi siamo convinti che entro l'estate realizzeremo un altro pacchetto di colonnine che renderà appunto la mobilità elettrica sicuramente più agevole per i turisti e spero presto anche per il nostro territorio perché poi il mondo sta andando in questa direzione gli altri paesi un po' più sviluppati hanno una politica sulle rinnovabili molto più attente alla mobilità sostenibile rispetto all'Italia e questo sta producendo dei cambiamenti molto rapidi e speriamo che presto questo accada anche in Italia perché si è visto che nei paesi che hanno iniziato a investire nella mobilità sostenibile si è messa in moto un'economia importante e che può portare posti di lavoro, può portare innovazione, può portare sostenibilità e quindi il paradigma innovazione e sostenibilità e quindi l'hashtag innovazione sostenibile che stiamo promuovendo in qualche modo può rappresentare un momento di crescita importante Nel comune di Agropoli un nuovo servizio per i residenti, per i turisti e per tutti i visitatori Sì, oggi è una bella giornata innanzitutto perché Agropoli si proietta nel futuro sappiamo che l'utilizzo delle macchine elettriche, delle auto elettriche è una cosa che sta prendendo sempre più piede e quindi ci pregiamo con la collaborazione di Convergenza di fare un passo nel futuro poi come tu dicevi giustamente ci sono anche delle dirette conseguenze innanzitutto un servizio ai cittadini di Agropoli e quindi dare più servizi alla città è già un fatto positivo che spinge anche ad invogliarli all'utilizzo dell'auto elettrica perché giustamente avendo ora un punto dove poter rifornirsi saranno spinti a farlo quindi una notizia positiva per coloro che vogliono intraprendere questa strada e due, è un segno tangibile per tutti i turisti che vogliono venire in città sanno che ad Agropoli c'è questa possibilità e c'è un circuito di tutti coloro che utilizzano le auto elettriche che noi andiamo a pizzicare e quindi questo è un modo anche diverso per far pensare a tutti coloro che hanno l'auto elettrica che possono venire tranquillamente ad Agropoli a trovarci perché c'è questo servizio e questo è un ulteriore segnale di crescita della nostra città Quanto è importante sul territorio istituire questo tipo di energia pulita? Beh è fondamentale, oggi ormai dobbiamo abbandonare il mercato dell'energia passato dobbiamo cominciare un serio progetto di decarbonizzazione dobbiamo smetterla di essere succubi del petrolio dobbiamo passare alle energie pulite, alle energie rinnovabili e questo tipo di iniziative ci porta a piccoli passi verso il futuro le auto elettriche stanno prendendo sempre più piede nei mercati di tutto il mondo in Italia andiamo un po' più lentamente ma la nascita di nuove infrastrutture sicuramente può aiutare anche questo mercato Spesso si ha un po' la convinzione generale che le auto elettriche rispetto alle auto normali abbiano un costo maggiore? Beh adesso è probabile che sia così anche perché appunto il mercato è ancora in crescita sono poco diffuse e quindi come per tutti i prodotti quando la domanda è un po' più bassa insomma i prezzi sono alti ma noi speriamo che la richiesta di auto elettriche possa sempre crescere di più in modo tale da poter rendere questo tipo di automobili più abbordabili per tutte le tasche Come si sta evolvendo quello che è il mercato relativamente all'acquisto delle auto elettriche? Il mercato delle auto elettriche in Italia allo stato attuale purtroppo è ancora in una fase embrionale anche se i costruttori oramai si sono dati una mossa e si stanno allineando a quelle che sono le logiche di mercato e maggiormente di tutela dell'ambiente per quanto riguarda la nuova mobilità sostenibile noi abbiamo la fortuna nella nostra azienda di rappresentare due marchi come Renault e Nissan che sono stati precursori in questo campo anche se purtroppo questo tipo di mercato va incentivato e va sviluppato anche con interventi di questa natura e quindi interventi volti a creare un'infrastruttura che consentano alle persone più sensibili a questo tipo di argomento di poter scegliere di fare questa scelta in una maniera un po' più sostenibile perché naturalmente acquistare un'auto elettrica e non avere un'infrastruttura dove poi poterla ricaricare naturalmente è limitativo e poi c'è anche l'aspetto legato agli incentivi in Europa, nell'Europa dove noi viviamo abbiamo i paesi del nord che hanno una percentuale di immatricolato delle auto elettriche intorno al 50% dell'immatricolato totale delle vetture durante il corso dell'anno in Italia tutto questo purtroppo ancora non è possibile per la mancanza di infrastrutture ma altrettanto per la mancanza degli incentivi per la mancanza di una politica volta ad incentivare in maniera seria in maniera costante questo tipo di mercato però questo ci consente di avere una mobilità di impatto zero e sarebbe una cosa veramente di fondamentale importanza per l'ambiente nel quale viviamo nell'ambiente che poi lasceremo ai nostri figli momentaneamente un'autovettura elettrica varia tra i 20 e i 30 mila euro in base all'autovettura rarissima che andiamo a prendere qui in esposizione abbiamo una Citroen C0 un'autovettura compatta dal design possiamo dire un po' futuristico ricordo un po' le autovetture che possiamo vedere nei film che guardano un pochettino più al futuro piuttosto che ai giorni nostri da un design particolare omologato per quattro posti possibilità di ricarica sia veloce che tradizionale quindi potendo sfruttare anche la colonnina che è stata appena installata qui in Agropoli o piuttosto sfruttare la presa di corrente classica della nostra casa tempi di ricarica che variano su una presa per ricarica rapida intorno ai 30 minuti e piuttosto che una casa intorno ai 7-8 ore quindi la classica ricarica di notte per quanto invece riguarda l'assorbimento di corrente nel percorso urbano possiamo arrivare anche ai circa 150 km 120-150 km nel percorso urbano tenendo presente che i costi di gestione dell'autovettura praticamente si vanno quasi ad azzerare quindi noi per quanto riguarda la manutenzione scombare il vecchio tagliando non abbiamo più problemi di manutenzione diciamo generale dobbiamo soltanto preoccuparci di ricaricare la nostra autovettura e cambiare le ruote tenendo presente che un motore elettrico piuttosto che un termico ha dei chilometraggi completamente differenti con tutti i vantaggi di sfruttare un motore che risponde sempre prontamente a bassi di giri non abbiamo vuoti sempre pronto ha una piacevolezza di guida che non è paragonabile alle altre alternative termiche ed è sicuramente un'autovettura del futuro Grazie a tutti